Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo in compagnia degli Atti degli Apostoli al capitolo 6, versetto 8. Dopo che hanno istituito la figura di queste persone che saranno incaricate, soprattutto sulla carità. Ecco, Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora, scusate, allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Si alzano per contestarlo, per discutere quella discussione, non è un dialogo, quella discussione è già un'accusa, ecco. E non riescono a rimanere affascinati, presi, rapiti, ecco, dalla grazia di Dio. Che bello, essere e sentirsi presi da questa chiamata che è la chiamata appunto alla vita del nostro battesimo, ecco. Allora istigarono alcuni perché dicessero, lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Pagano falsi testimoni. E così sollevarono il popolo. Gli anziani gli iscrivi gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al sinetrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distrugge questo luogo e sovvertirà le usanze di Mosè, che Mosè ci ha tramandato. E tutti quelli che sedevano nel sinetrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Ci sono, ci sono, anche qui, diciamo, Luca ricostruisce sulla falsa riga di quello che è accaduto prima nel processo, quello che sta accadendo anche ai discepoli. Quindi, siamo di fronte alla prima persecuzione. Stefano, insomma, annuncia compassione, lo arrestano, lo minacciano, scusate, pagano falsi testimoni questa volta, anche nel processo di Gesù avevano cercato di alcuni testimoni e soprattutto poi, insomma, se ne vanno, ecco. Può succedere di camminare pur pensando di essere nell'ottica di Dio contro la verità, contro la conversione del nostro cuore, della nostra vita. Proviamo a, proviamo oggi a vivere di questa piccola luce che è il Cristo risorto, senza vergognarsi e, anzi, con gioia ed entusiasmo. Mamma mia, allora, le cose belle della giornata di ieri, beh, ce ne sono state tante perché il weekend è lungo, soprattutto la cena dell'oratorio, la cena a colori, che è stata una bella impresa, insomma, più di 200 persone sono sempre difficili da sfamare e nello stesso tempo da sfamare senza dei professionisti, ecco, della cucina o della sala. Però è stato veramente bello e sono molto grato per questo. e poi in questo weekend anche mio nipote ha ricevuto la crisi, ma ha vissuto questo e quindi, insomma, mi auguro che sia un testimone felice, ardente di questa giornata. E abbiamo anche iniziato il cammino d'estate, ragazzi, ma è sempre bello pensare all'estate. Ale, buona giornata a tutti voi!